Sicuramente una novità, allora quest'anno abbiamo i video presepi, una bellissima novità a cui abbiamo dato una risposta in sostanza in quanto molte persone ci chiedevano se era possibile inviarci un video del proprio presepe e così abbiamo creato i video presepi, cioè la possibilità di ricevere attraverso un protocollo di comunicazione via web o il video oppure qualche fotografia del presepe. L'Università della Libretà ha colto al balzo questa possibilità e quindi abbiamo già i loro video presepi all'interno della rassegna di quest'anno. Sappiamo che questa è solo una parte, andiamo a spiegare anche da chi ci segue fuori regione di cosa si tratta, chi può partecipare e perché. La rassegna presepi fa parte di tutte le rassegne presepiali di tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi oltre 4.000 siti che si trovano appunto in tutto il Friuli. La nostra rassegna in particolare si rivolge proprio a tutte le parrocchie, ai bambini, agli oratori, alle scuole, alle proloco e a tanti tanti privati che hanno il desiderio di esporre qui a Città Fiera i loro presepe. Poi sappiamo che siamo anche sempre aperti, le persone le possono visitare, dove ci troviamo? Ci troviamo a Città Fiera, presso il centro commerciale, nell'area rosa, al primo piano. Vi aspettiamo qui insieme a tanti tanti amici. Abbiamo anche alcuni presepi curiosi, quali sono quelli che magari colpiscono di più quest'anno? C'è veramente l'imbarazzo della scelta, sia dal Babbo Natale, che è ispirato alla fame nel mondo, ma anche a tanti semplicissimi presepi fatti dai bambini. Oppure un albero di Natale realizzato dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri, o ancora il Solidar Mondo Ollus, che ha realizzato una creatività veramente particolare. Ma no, non chiedermi questo perché sarebbe troppo limitativo. Ognuno è meraviglioso e tutti hanno la loro peculiarità ed è bellissimo poter venire qui, vedere e soprattutto anche copiare qualche idea. Abbiamo detto solo alcuni accendi, il resto è tutto sorpresa. E per chi invece non è mai venuto, lanciamo un invito. Potete seguirci online. Quindi molto semplicemente ci trovate sulla pagina Facebook del centro commerciale, quindi la pagina Facebook di Cittafiera per il sociale. Potete trovare tutti i nostri presepi e lì li potete finalmente votare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.